Carlo Buttini, 21 anni. Ciao, sono Paolo Campana, della sede, squadra di Pertesi, che ha il nome di tutto il programma. Ciao, sono Piergisepo Calico, della sede di Iper Montebello. Ciao, sono Marco Demitri, sono di Ferrarese. Ciao, sono Mario Latterulo, della sede. Corro per Rubicone, in quanto stagista, quando me l'hanno proposto non potevo rifiutarlo. Facciamo squadra, penso che sia un'ottima iniziativa. Corro perché mi hanno detto che gli stori in questa gara sono gratis. Speriamo comunque di poter battere tutti. È inutile dire che sarà la nostra squadra a vincere.